In compagnia di uno dei nuovi acquisti dell'FC Sutirol di questa stagione 2014-2015, Fabian Tait, la vita presenta dell'opportunità, bisogna essere bravi a coglierle, tu l'hai fatto e adesso sei un calciatore professionista dell'FC Sutirol, un bel salto di qualità per te. Prima di tutto ringrazio l'FC Sutirol per avermi dato questa opportunità, spero di far bene e soprattutto spero che la squadra faccia bene, poi se arriva un po' di spazio anche per me sono contentissimo, mi sono trovato subito bene in questo gruppo fantastico, organizzati veramente da Dio, mi sono trovato come a casa, come in una famiglia. Possiamo dire che l'opportunità che ti ha concesso il Sutirol è arrivata nel momento opportuno, visto che sei giovane, hai solo 21 anni, però hai tre campionati di Serie D alle spalle, il che significa che un po' di gaveta l'hai già fatto. Sì, tre campionati di Serie D, esperienze in Serie D l'ho già fatta, io speravo in un salto, è arrivato per fortuna anche quest'anno e sono contentissimo, veramente contentissimo e speriamo che vada tutto bene. Quanto divi a Mezzocorona e Salorno, società nelle quali sei cresciuto, per questa opportunità che ti si è creata quest'estate? Sicuramente tutto, a Salorno sono cresciuto da piccolo, ho fatto fino in eccellenza tutto lì a Salorno, poi Mezzocorona mi ha dato la possibilità con la Beretti in Serie D, Serie D è un campionato molto difficile, ho imparato tante tante cose, giocando anche con giocatori abbastanza importanti come Migliorini che mi ha insegnato tante cose, come D'Agostini, Natori, ho imparato tanto 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 e sicuramente è stata una cosa positiva. Ti è servita anche l'esperienza a Marano nella seconda parte della scorsa stagione, sempre in Serie D, ma è una Serie D a vincere anche se poi ha vinto il Pordenone. È tutta un'altra cosa, da Serie D a salvarsi e a vincere, me ne sono accorto quest'anno e mi ha aiutato sicuramente tanto tanto perché a livello di ritmo non ne soffro tanto, avendomi già allenato col Marano perché già lì il ritmo è già più alto che a Mezzocorona. In un centrocampo a tre, come quello con cui gioca mister Rastelli, quali posizioni può ricoprire Fabian Tait? Io, devo essere sincero, ho sempre giocato un centrocampo di tre con tutti gli allenatori che ho avuto, ho sempre fatto l'interno di centrocampo e comunque io gioco dove mi metto il mister, sono contento e mi adeguo diciamo. Hai già notato le differenze che intercorrono fra il fatto di giocare in Serie D e di giocare e di allenarsi per il momento in una squadra di prima divisione Lega Pro, cioè di Serie C? Eh ma sicuramente il livello è molto alto, il ritmo è altissimo, non hai tempo di stoppare la palla e guardare, cioè devi fare tutto più veloce e pensare tutto allo stesso tempo e il ritmo è molto più alto come ho detto prima e più difficile, più dura. Hai una dedica per questa opportunità che ti si è creata in campo professionistico, nel calcio, la tua grande passione? Sì, la dedico a mia mamma che mi guarda da lassù.